Doppio successo per i lupi. Da un lato, il triangolare svoltosi al Tarsitano di Paola ha offerto alla tifoseria Abruzzi a segnali di crescita della squadra. Dall'altro, la truppa Rosso-Blu ha contribuito con la propria partecipazione al successo di un triangolare, che l'ha visto prevalere su Rende e Paolana per sostenere le popolazioni della fascia ionica, in particolare i comuni di Rossano e Corigliano, che si portano dietro le ferite dell'ubifraggio abbattutosi lo scorso 12 agosto. 1-0 contro il Rende, 5-0 contro la Paolana, questi i risultati dei mini-match del triangolare solidale, grazie al quale sono stati raccolti 2.000 euro. D'altro canto, a fine triangolare, Mr. Rosselli, nonostante le buone cose mostrate dai suoi, è apparso tutt'altro che tenero, lamentando un esordio di gara rilento contro il Rende e lamentando, in prospettiva, la lentezza dei progressi della squadra anche alla luce di un'infermeria ancora affollata. Umiltà e severità, la ricetta di Rosselli per intraprendere il giusto viatico.